Allora questa partita ci è stata difficile veramente, alla fine siamo riusciti a chiuderla bene, abbiamo avuto pazienza e loro sono stati abbastanza effettivi, quindi bella partita. Testa in domani, cerchiamo il primo posto del girone e niente, pensiamo da domani e spero che sia buono per me. Questa esperienza è un'esperienza positiva perché comunque la nostra cosa è all'incompleto ma anche sia piena di giovani, anche con me stesso ma anche con altri ragazzi siamo sulla ventina, ventiquattro anni e fa solo un onore combattere sia in campo con gente di esperienza, con stranieri o comunque con squadre che sono retrocesse da uno e solo per noi è un onore fare questa finaletta.